Musica Ben ritrovati con l'informazione live di UD News TV in apertura diverse notizie relative a incidenti verificatosi questa mattina sulle strade della nostra regione partiamo da Cervignano del Friuli dove attorno alle ore 8 in via Ramazzotti nei pressi dell'Isis Malignani un'auto condotta da una donna ha perso il controllo del mezzo, si è schiantata contro un albero la conducente è rimasta incastrata, complesse le operazioni per estrarla da parte dei vigili del fuoco la donna avrebbe subito un trauma cranico facciale, numerose ferite agli arti inferiori e un arto superiore è stata elitrasportata dal personale del 118 in gravi condizioni in elicottero all'ospedale Santa Maria della Mesiricordia di Udine altri incidenti poi a Risano di Piavia di Udine con un camion che è finito fuori strada incidente anche a Ciconico di Fagagna sulla strada regionale che porta Martignacco con conseguente spandimento di benzina sull'asfalto un anziano, il suo nipotino invece sono rimasti feriti dopo essere stati travolti da un'auto a Trieste attorno alle ore 8 in via dell'Istria il piccolo è rimasto ferito in modo lieve ed è stato portato al burlo garofolo il nonno invece, le cui condizioni sono gravi, è ricoverato all'ospedale di Cattinara sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e la polizia locale a proposito di incidenti ci spostiamo in autostrada per un aggiornamento live dove stamattina già si era verificato un sinistro attorno alle ore 7 nel tratto compreso tra La Tisana e San Giorgio di Nogaro attualmente una situazione di traffico intenso si presenta sempre nel tratto di autostrada A4 come potete vedere tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza con code dunque che si stanno accumulando e a proposito di autostrada già da questa mattina comunicava autovie il traffico in intensificazione il maggior afflusso è previsto nel pomeriggio di domani durerà sino a lunedì 24 con intensificazione nella giornata di sabato 22 questo per effetto di una serie di eventi il rientro a casa dei lavoratori dell'est Europa nei propri paesi l'incremento del traffico commerciale per le ultime consegne e quello turistico favorito dalle vacanze di Natale è stato quindi predisposto un piano che prevede il potenziamento del personale ai caselli soggetti ad un maggior flusso di transiti a Trieste-Lisert e a Villesse ci sarà anche la presenza di un gestore di tratta che coordinerà tutte le attività e presiedirà le piste anche quelle automatiche in caso di necessità lo stop ai mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza sarà in vigore a partire da sabato 22 dalle 9 alle 14 nelle giornate di domenica 23 martedì 25 mercoledì 26 dalle 9 alle 22 continuiamo con la cronaca e ci spostiamo a Gorizia con un'importante operazione antidroga portata a termine dalla polizia dalle squadre della locale Questura una operazione denominata Petco perché? Perché era il nomignolo con il quale gli appartenenti ad una piccola organizzazione di cittadini bulgari abitanti nella vicina Nova Gorizia in Slovenia ed edita lo spaccio di sostanze stupefacenti chiamavano il loro capo mentre in Italia si intercettavano le telefonate di chi andava quotidianamente a rifornirsi di eroina da loro sulla pista ciclabile che lambisce l'ex valico di via San Gabriele e quello di via Rafut a Gorizia l'indagine condotta dalla sezione antidroga della squadra mobile prese inizialmente le mosse da un pusher goriziano e da quel giro di spaccio scoperto nel corso di un'indagine del 2015 nella quale fu arrestato un acquirente sorpreso con 20 grammi di eroina nell'operazione Petco dopo numerosi sequestri che hanno interrotto il canale di approvvigionamento della pista ciclabile goriziana è emerso un altro spacciatore goriziano che si era stabilito in Slovenia a isola vicino a Capodistria e riforniva di eroina il Monfalconese assieme al commissariato di Monfalcone sono state arrestate in flagranza di reato tre persone sequestrate circa 60 grammi di eroina proveniente sempre dalla Slovenia la polizia slovena ha contemporaneamente attivato indagini che hanno portato all'arresto di altri due pusher che si recavano anche loro in Italia per la vendita dello stupefacente dai servizi di pedinamento e dalle osservazioni come potete vedere da queste immagini l'indagine ha poi interessato anche il commercio illecito di metadone proveniente dal CERT goriziano in consistenti quantitativi pari o superiori addirittura al fabbisogno settimanale di ogni singolo utente metadone è rimenduto poi ad altri tossicodipendenti per acquistare con il ricavato l'eroina altri tre goriziani sono invece stati indagati per lo spaccio di cocaina e hashish la cocaina in particolare veniva comprata in piccoli quantitativi da un noto spacciatore sloveno di Nova Gorizza sempre in quantità minime per non rischiare conseguenze penali in caso di controllo portata poi in Italia per essere ceduta in diversi locali pubblici di Gorizia dove sono stati identificati anche con discreti sistemi di videoripresa a distanza numerosi acquirenti in precedenza sconosciuti alla polizia ci spostiamo ora nella destra tagliamento a Sacide in particolare perché in questo caso i carabinieri alla fine di arginare il diffuso fenomeno delle truffe via web attivate in particolare attraverso i canali dello shopping online per molti cittadini ritenuto comodo e conveniente ma che invece spesso riserva spiacevoli sorprese hanno concluso una prolungata attività di indagine denunciando alla procura della Repubblica di Pordenone 9 persone a vario titolo ritenute responsabili del reato di truffa aggravata in concorso le truffe hanno visto acquisti di veicoli storici piscine fuoriterra, vacanze estive cerchi in lega per auto e auto vere e proprie l'indagine è compiuta dai carabinieri di Sacide per individuare i truffatori il risultato di pazienti e prolungati accertamenti svolti mediante acquisizione di ingenti dati dalle compagnie telefoniche ha permesso di accertare ancora una volta che purtroppo a fronte di offerte convenienti ci sono venditori poco corretti che inducono legnare vittime ad accreditare somme di denaro anche ingenti poi rimanendo truffate da qui anche l'invito agli stessi cittadini a rivolgersi subito alle forze dell'ordine in caso appunto succedano questi episodi ed ora siamo pronti per collegarci con la nostra Angela Accaino dall'Università di Udine perché oggi c'era un importante incontro per fare il punto sui cantieri per i promossi dall'Università per il Friuli del futuro a te Angela Sì David, buongiorno a te e ai nostri telespettatori siamo a Palazzo di Toppo Wasserman perché sta per iniziare una conferenza stampa promossa dall'Università di Udine per fare il punto su un progetto partito due anni fa quasi professor Pascolini siamo assieme a Mauro Pascolini che è il coordinatore del cantiere Friuli al quale chiediamo subito cos'è emerso in questi due anni di lavoro è emerso soprattutto in estrema sintesi che l'idea che abbiamo avuto era un'idea giusta nel senso che questa diciamo portare l'Università a confrontarsi con i problemi del territorio insieme al territorio ha potuto mettere insieme delle risposte riguardo ad alcune situazioni particolarmente di crisi che questa nostra regione sta vivendo da un lato tematiche quali quelle demografiche l'invecchiamento della popolazione la denatalità una rivoluzione che sta avvenendo non solo qui evidentemente nel mondo delle imprese nel mondo del lavoro e sullo sfondo quello che è il quadro istituzionale e il rapporto con gli enti locali su queste cose insieme poi ad altre che riguardano l'edilizia che riguardano il benessere sociale e il benessere sanitario siamo riusciti a dare a formulare delle risposte e oggi le presenteremo in maniera molto sintetica abbiamo chiamato queste parole in pillole pietre angolari che in friulano si chiamano i ciantonai quelli che tengono su una casa quello che tengono su un cantiere proprio per dare significato grazie allora professor Pascolini buon lavoro David restituiamo la linea allo studio a te grazie Angela per questo collegamento dall'università di Udine dal palazzo di Toppo Wasserman abbiamo capito insomma dove vuole andare l'università con questi cantieri rimaniamo in tema di futuro di occupazione di economia e di pensionati perché tornano ad intervenire le sigle sindacali di categoria dei pensionati sulla rivalutazione tagliata quasi un pensionato su due della nostra regione la beffa si materializzerà dal primo gennaio 2019 se governo e Parlamento daranno seguito all'emendamento alla legge di bilancio che rinvia di tre anni il ritorno ad un meccanismo di rivalutazione quello in vigore fino al 2011 che fosse in grado di tutelare il potere d'acquisto dei pensionati italiani ancora una volta in spregio alle tante illusioni dispensate a destra e a manca prima e dopo le elezioni denunciano i segretari regionali dei pensionati Medeot Pizzolitto e Gruarin siamo di fronte a un governo pronto a fare cassa con i pensionati una scelta non soltanto profondamente ingiusta dicono ma che suona addirittura beffarda se paragonata ai contenuti iniziali della manovra che prospettava addirittura l'introduzione della cosiddetta pensione di cittadinanza a partire dal primo gennaio 2019 se le prospettate misure sulle cosiddette pensioni d'oro così come sono state tratteggiate interesseranno un esiguala platea di pensionati in rinvio della piena rivalutazione per tutte le pensioni di importo superiore a tre volte la minima interesserà oltre 7 milioni di pensionati a livello nazionale ben 183 mila in Friuli-Venezia-Giulia più della metà della platea complessiva tra questi anche moltissimi pensionati con reddito medio-basso denunciano i sindacati considerato che i tagli alla perequazione sono previsti a partire dalla soglia di 1530 euro di reddito lordo mensile poco più di 1200 euro al mese sarebbe l'ennesimo furto alle pensioni medio-basse già penalizzate non solo da un meccanismo penalizzante di arreguamento all'inflazione ma anche da un livello di tassazione che è tra i più alti d'Europa questo dunque secondo il sindacato il rischio per i pensionati friulani parliamo ora di vini invece con la delizia di Casarsa che trova delle nuove frontiere di mercato la cuve del Friuli piace sempre di più sia in Italia che il mondo infatti i viticoltori friulani la delizia hanno tagliato il traguardo del mezzo milione di bottiglie vendute nel corso del 2018 dello Ieder le cui caratteristiche etichette verdi stanno diventando uno dei colori simbolo della cantina casarsese con questi numeri ha commentato Mirko Bellini direttore commerciale della delizia ci confermiamo tra le prime dieci cantine d'Italia nel settore del prosecco e degli spumanti visto che oltre allo straordinario risultato di Ieder cresciuto in maniera esponenziale nello spazio di un paio d'anni è sempre più richiesta tutta la linea delle bollicine Naoni sono ormai giunta a 1.700.000 bottiglie vendute nel settore Oreca più 13% rispetto allo scorso anno risultati che dedichiamo dice ancora Bellini a tutti coloro che ne sono stati protagonisti dei soci conferitori dell'uva a chi il vino lo fa qui in cantina e chi lo va a vendere con successo ed ora dovremmo essere pronti ad aprire la nostra pagina sportiva con le ultimissime dalla Dacia Arena trovo pronto il nostro Jacopo Romeo per gli aggiornamenti a te Jacopo buongiorno buongiorno a te Davide buongiorno anche a chi ci segue da casa è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri un cambio di programma da parte di mister Davide Nicola perché la squadra che da programma originario sarebbe dovuta allenare si sarebbe dovuta allenare questa mattina alle ore 10.30 ha spostato la seduta odierna alle 14.30 dunque l'udinese sarà in campo nel primo pomeriggio per quello che sarà il penultimo allenamento prima della gara di sabato qui alla Dacia Arena contro il Frosinone dunque noi ovviamente mostreremo le immagini in diretta nella nostra fascia dedicata all'udinese a partire dalle ore 15 e cercheremo di capire in che senso lavorerà la squadra di mister Davide Nicola per quella che è una partita determinante decisiva assolutamente no perché c'è ancora tantissimo da quella a fine del campionato ma è una partita molto importante perché c'è una classifica da rimpinguare e soprattutto c'è un Frosinone che nonostante sia più attardato in graduatoria deve essere definitivamente rispinto indietro con un risultato positivo questo sarebbe un bel modo di regalarsi innanzitutto un buon Natale ma soprattutto di approcciare a quello che sarà un trittico di partite che rappresenterà un po' lo snodo fondamentale della stagione udinese perché le gare contro Frosinone spalle in trasferta e qui nuovamente alla Cerene in casa contro il Cagliari il 29 dicembre diranno quale potrà essere che seconda parte di stagione potrà essere per l'Udinese se bisognerà stare lì a lottare con le unghie e con i denti come ovviamente dovrà di base essere in ogni partita perché questo è uno dei mantra di mister Davide Nicola ma se lo si dovrà fare con delle incombenze di classifica particolarmente pressanti o se si potrà approcciare in maniera un po' più seria quanto meno sotto il profilo della tranquillità dei punti messi in cascina dunque sono tre partite assolutamente a non sbagliare sono tre partite a livello di Nese dove ritornare a far risultato e per farlo deve sicuramente mettere in evidenza quanto di buono ho fatto a vedere nei primi 20 minuti del secondo tempo della gara contro l'Inter di fronte un Frosinone che ieri ha cambiato allenatore sensidato a Marco Baroni sulla panchina dei Ciociari e che vedremo quali contromisure immediate fate riuscire ad approntare ma indipendentemente da questo l'Udinese deve avere la consapevolezza che in questo trittico di gare se la vedrà con squadre che sono ampiamente alla portata dei ragazzi di mister Davide Nicola vedremo anche se tornerà in gruppo Valomberami quest'oggi che negli ultimi tre giorni ha lavorato individualmente ma per un percorso personalizzato che era già stato precedentemente fissato insomma cercheremo di capire anche quali saranno le indicazioni tattiche che il mister darà mister che potrebbe procedere a delle fisiologiche rotazioni perché tre gare in sette giorni sono tante è un mini tour de force dunque adesso che ha recuperato tanti elementi la sua rosa penso a Barak penso a Vague in difesa penso anche allo stesso Berami che ha giocato contro l'Inter ha tante carte nel mazzo cui pescare penso ad esempio a Nicolas Opoku penso a Andrea Bale c'è tanti giocatori che stanno scalpitando davanti c'è abbondanza con Macis Lasagna Pussetto lo stesso De Paul e dunque Davide Nicola potrà anche tra virgolette divertirsi a poter far rifiatare qualcuno comunque a mischiare le carte in tavola da qui alla fine dell'anno ricordo ancora una volta Davide poi ti ricedo la linea che le gare interne contro il Frosinone contro il Cagliari ci saranno delle promozioni per tutti i nostri tifosi contro il Frosinone biglietto di tribuna tribuna centrale distinta e curva a un euro per tutti gli under 18 lo stesso discorso vale per l'iniziativa Porto un amico riservato agli abbonati per la gara contro il Cagliari sempre biglietti in questi settori al costo di un euro poi ovviamente tante altre promozioni come per esempio i sconti 10% perché questo è un biglietto da Conforama lo stesso 10% di sconto per tutti i McDonald's del Friuli Venezia Giulia perché acquisterà un biglietto per le partite contro Frosinone e Cagliari e anche Parma che sarà la prima del giorno di ritorno il prossimo 20 gennaio dunque tante iniziative da parte della società per fidelizzare i tifosi e per avere una Dacia Arena sempre vestita a festa in queste gare che si annunciano determinanti grazie grazie a nostro Jacopo Romeo dalla sala stampa della Dacia Arena per le ultime sui bianconeri rimaniamo in ambito calcistico perché stamattina nei nostri collegamenti in esterna abbiamo voluto parlare del caso Totocalcio in questi giorni si discute sul futuro della storica schedina della Sisa inizialmente era stata appaventata una sua eliminazione poi mezza marcia indietro da parte del governo con il sottosegretario Giorgetti che ha dichiarato di volerla rivedere e potenziare nel sistema la nostra Angela Caino stamattina è andata a sentire la voce di un storico scommettitore cioè gestore di una centro scommesse di Udine in piazzale Oberland si è fatta un po' fatica a trovare questi locali in cui si può ancora giocare al Totocalcio ma Angela ce l'ha fatta allora andiamo ad ascoltare che cosa ha raccolto qua si può giocare la schedina che abbiamo anche scoperto non è più cartacea la vecchia schedina che avevamo una volta in cui si segnava a mano l'1x2 non c'è più si è stata tolta adesso il cliente può giocare solamente digitando e poi dettandomi la schedina dove io manualmente sul terminale imposto i pronostici e stampo la schedina richiesta ecco lei ha detto che appunto è da vent'anni qui com'è cambiato in questi vent'anni il gioco del sisal della schedina cambiato il mondo perché vent'anni fa c'era solo il Totocalcio si era abituati a giocare le partite la domenica aveva un riferimento mentre adesso giocano ogni giorno quindi ormai la schedina è un fatto ormai remoto passato ormai il nuovo gioco sono le scommesse che abbraccia tutti i settori uno può giocare quello che vuole decide cosa spendere sa quello che vince prima a differenza del Totocalcio che era legato al Montepremi a quanti giocavano è Montepremi che nel corso degli anni poi è cambiato tantissimo è crollato forse fa bene il governo a cambiare un po' le carte lei cosa dice senz'altro 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 provare a inserire qualche nuovo gioco che stimoli i giocatori che sia una novità tra i pochi sopravvissuti diciamo così al Totocalcio chi è che lo gioca? sono le persone che ormai hanno una certa età diciamo una fascia d'età che va sicuramente oltre 50 giocatori che erano abituati a giocare la classica schedina e questo tipo di gioco è relativo anche ai cavalli l'Ipiga dove si giocava moltissimo sia la Tris che il Totip giochi che ormai stanno scomparendo anche quelli vista la crisi che investe il settore in schedina c'è anche l'Udinese c'è sempre un po' di scaramanzia quando bisogna giocare l'1x2 un pronostico contro l'Udinese ti rimangono le schedine lì le giocate si gioca alla tripla quindi esatto esatto o meglio non giocarla ed ora andiamo a ridare uno sguardo alla situazione del traffico in autostrada dal sito di Info Viaggiando possiamo vedere che continuano a permanere le code nel tratto veneto della 4 tra San Donati Piave e Cessalto in direzione Trieste code segnalate a tratti proprio a causa del traffico intenso che come spiegavamo prima aumenterà in queste giornate tra festività natalizie rientro degli autotrasportatori e dei lavoratori nell'est Europa e traffici commerciali qui vedete anche le immagini in diretta delle webcam di Autovie Venete siamo all'altezza della intersezione tra 4 a 23 a Gonars con il traffico in questo caso abbastanza scorrevole su entrambe le carreggiate andiamo ora a dare alcuni aggiornamenti invece di cronaca nazionale con le continue tensioni a livello di governo per i preparativi di questa manovra bene aver evitato la procedura di infrazione ma l'Europa deve cambiare la linea del governo il giorno dopo lo stop di Bruxelles alle procedure per il debito italiano con l'intesa sulla manovra intanto dalla vice premier arrivano rassicurazioni sul fronte dell'IVA dopo la notizia che nel maxi emendamento del governo che recepisce l'accordo con l'unione sulla manovra sono previsti aumenti dell'IVA per 23 miliardi nel 2020 e quasi 29 nel 2021 e 22 non c'è un aumento dell'IVA quest'anno e non ci sarà nei prossimi anni come abbiamo dimezzato quest'anno le clausole le dimezzeremo nei prossimi ha detto Di Maio a Radio Capital smentisco il fatto che abbiano tagliato 4 miliardi di investimenti gli investimenti restano alcuni vanno in flessione perché sono sul dissesto idrogeologico queste dunque le parole del vice premier Di Maio mentre continuano appunto le tensioni sulla manovra andiamo a dare uno sguardo anche alle webcam che ci arrivano dalla montagna del nostro Friuli Venezia Giulia qui siamo con la webcam del Piancavallo vedete all'orizzonte un cielo nuvoloso con le vette leggermente imbiancate dopo la notte un Piancavallo che si appresta alla stagione sciistica e qui ci siamo spostati a Sappada dove le nevicate sono state leggermente più abbondanti e quindi ancora scorriamo con le webcam di Promotour ci trasferiamo sullo Zoncolan piste tirate a lucido per il fine settimana di Natale che sicuramente richiamerà tantissimi appassionati sciatori della nostra regione e non solo a proposito di meteo andiamo ora ad ascoltare la pillola dell'Osmer vediamo ancora delle deboli piogge questa mattina sulla regione e deboli spruzzate di neve in montagna fino a Fondovalle fino ai 400 metri circa sta però smettendo di nevicare per quanto riguarda la Carnia e le prealpi carniche rimangono ancora deboli nevicate sulle giuglie nel corso della mattinata le precipitazioni tenderanno a cessare e partire da ovest su tutte le zone quindi grosso modo a mezzogiorno praticamente tutta la regione sarà senza precipitazioni salvo qualcosa di residuo sulla zona di Trieste le temperature saliranno intorno agli 8-9 gradi per quanto riguarda la costa valore intorno ai 7 gradi in pianura questa sera possibile formazione di nebbia sulla bassa pianura specie verso il Veneto perché la possibilità di qualche schiarita appunto porterà la possibile formazione di nebbie per domani nuvoloso prevalenza di nubi sulla regione una situazione che vede molta umidità nei bassi strati e quindi la possibilità ancora di formazione di nebbie o nubi basse specie sulle zone diciamo le nebbie più probabili verso il Veneto mentre le nubi basse sono più probabili sulle zone occidentali però non avremo precipitazioni non ci sono perturbazioni ma c'è solo molta umidità in giro per le temperature saranno piuttosto basse massime diciamo che andranno intorno ai 6 gradi in pianura 8-9 sulla costa giornate successive quella di sabato con una situazione che vedrà tempo probabilmente migliore in montagna ancora prevalenza direi di nubi basse specie sulle zone orientali di pianura e costa insiste il flusso umido da sud ovest che porta maggiore umidità e persistenza di nuvole in queste zone ma non succede niente di particolare può formarsi ancora qualche nebbia in pianura anche nei giorni successivi non avremo precipitazioni le correnti sono settentrionali in quota però rimane la possibilità di nebbie e nubi basse per quanto riguarda le zone di pianura e costa quindi fino a grossa moda natale non dovrebbe succedere niente Prima di salutarci un ultimo flash di cronaca ancora ladri in azione nella notte in Friuli in particolare colpita la zona di via Galilei a Udine dove all'interno di un'abitazione sono state messe a soccuadro diverse stanze rubati preziosi orologi di marca per circa 30.000 euro indagano i carabinieri colpi anche a Pradamano e a Basaldella di Campoformino in questo caso però i malviventi sono usciti dalle abitazioni a mani vuote resta il danno per gli infissi e le porte delle abitazioni indagano i carabinieri di Pavia e del radiomobile di Udine è tutto l'informazione live ritorna alle ore 12 a più tardi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.